apriamo il culo dai apriamo il culo questi quattro deficienti qua anzi tre sono pure scarsi e uno è partito dai abbiamo vinto il primo round dai andiamo a vincere il secondo dai grazie Pike, muoviti però. Non rompere il cazzo, dai. Cazzo, dai. Già, ho fatto il delirio. Ho fatto il delirio. Dai, che sei scassa, dai. Le speranze non hai. Abbiamo vinto la partita. K.O. Di nuovo. E io, di nuovo, mi prendo i gemelli. Stack. Certo. Almeno è di livello 11, dai. Però questa mappa non è che mi piace tanto. Porca troia, siamo nei guai così. Cazzo. Porca puttana. Porca troia. Con un colpo cosa cazzo mi ha fatto. Dai, vabbè, spara contro i muri. Dai, solo questo coglione è rimasto. Ok, ok, ok. Cazzo. Cazzo. Ok, 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 attenzione. C'è anche il mio colone lì. Nooo. Peccato. Sì, sì, che culo, che culo. Meno male che c'è il mio clone. Meno male. Ok. Foot bro. Vediamo se riusciamo a fare qualche azione combinata, come la volta scorsa, magari. Mi prendo gelindo qua, eh. Mi prendo gelindo qua. Oddio. C'è uno di legamiti. E che cazzo, però, già cominciamo così. Sì. Perfetto. Andiamo a fare il secondo, dai. Porca troia, porca troia. Solo tu rimani. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Perfetto. Partita vinta. Ovviamente, argento 3. Ricercati. Vediamo se riusciamo a farlo questa volta. Mi prendo i gemelli qua. Niente da fare. Non si riesce a fare questo evento. Vabbè. Rapina. Il rapina. Cazzo, mi devo prendere, ragazzi. Provo con Iris. Oddio. Non so se è una scelta giusta, però. Ci provo. Questa squadra di merda che ci ritroviamo. Vabbè. Vabbè. Forse la vinciamo, eh. Forse la vinciamo. Sì. Abbiamo stravinto. Ricercati. Vediamo se questa volta ci riusciamo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. I gemelli. Sarà la volta buona. Oh, forse ci riusciamo. Vediamo. Stiamo aspettando ancora. Mi preoccupa questa cosa. Ah, ci siamo riusciti. Una mappa molto aperta. E' quel che vedo. Noi cominciamo a bombardare. Come cazzo fai a non prenderlo? Incredibile, incredibile. Come cazzo fai a non prenderlo? Porca puttana. Figlia di Troia. Figlia di Troia. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. 13-12. 17-12. Ok. La cosa adesso è migliore. Attenzione. Sì. 19. Ok. Abbiamo vinto. L'abbiamo vinto. Perfetto. KO. Riconfermo i gemelli qua. Ti posso consigliare Bo? Bo! Prenditi Bo. Porca puttana che si deve prendere Mortis. La fine che faremo noi Mortis. Nice. l'ha ucciso. L'ha ucciso. L'ha ucciso. Porco cane. Porco cane. Porco cane. Ne puoi mie tante mamme. Porco cane. Porco cane. Vesti tagli e spese in valle. Oh. L'ho ucciso alla cieca. Primo round vinto. Ah c'è quello con l'inclinetto c'è. Ciao squiddy. Dove cazzo è l'altro adesso? E dove poteva essere? Dai uccidetelo. Uccidetelo dai. Manca solo quello. Uccidilo tu. Tu con le bombe contro Edgar. Ma. La vedo un po' dura. Come. Situazione. Non lo sapevo io. Vabbè raga. Dai. Adesso dobbiamo vincere per forza. Perché se no perdiamo. A me. Non va giù. Ok. Ok. Siamo tre contro Edgar adesso. Dai. Non possiamo perdere. Ok. Abbiamo vinto la partita. Ricercati. Di nuovo. Ricercati. Andiamo a ricercare la vittoria. Dai. Andiamo a ricercare ancora la vittoria con i gemelli. I gemelli. Ovviamente io prendo sempre i stessi brawler. Perché mi trovo. Poi se facciamo cagare. Mi cambio. Vuol dire che non mi trovo. Allora. Già questi partono a gruppo. Partono a gruppo questi. Per poco non mi ammazzavano. Io non so perché ho sparato lì. Non riesco ad ammazzarli. Quattro pari stiamo adesso. Porca puttana. Possiamo vincere. Possiamo vincere. Ok ok. 9-7. Porca puttana. Non l'avrò ucciso. Non so nemmeno io per quanto. Cazzo raga. Cazzo raga. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto all'ultimo. E siamo in oro raga. Siamo in oro. Mitico. Attenzione. Star mitica. Un brawler. Una cazzo di skin. Vabbè dai. Ok ok. Grazie a tutti Grazie a tutti